Musica Anche quest'anno saremo presenti all'ExpoDental edizione 2014. Per l'operatore quest'anno visitare lo stand Roland sarà un momento unico, in quanto avrà a sua disposizione tutte le tecnologie Roland, tutte le nostre macchine saranno sullo stand, le potrà vedere, toccare con mano, osservare. Roland presenterà delle novità sia dal punto di vista applicativo, insieme ai nostri clienti che saranno in prima linea con le nostre macchine, ma anche dal punto di vista delle nuove collaborazioni prese in accordo con alcuni nostri nuovi partner. Tutti i giorni siamo a contatto con i nostri clienti, questo ci permette di valutare e conoscere appieno le loro esigenze. Musica Lo stand sarà organizzato attraverso un percorso conoscitivo, che parte dalle soluzioni CAD CAM, quindi dalla scansione alla fresatura, per arrivare poi dopo a quelle che sono le varie applicazioni che si possono avere attraverso determinati materiali. Vi aspetteremo a Milano per condividere le vostre esperienze con le nostre soluzioni. Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Grazie a tutti.